un saluto a tutti cari amici di youtube adesso voglio parlare di uno dei tanti misteri di epoca antica ma anche di epoca moderna voglio parlare di una delle città più misteriose e famose della fantasia vi sto parlando di Eldorado che è chiamata anche Manua questa città come dice il nome e come la chiamano gli spagnoli era una città tutta d'oro per tutta d'oro intendo dire che sia le strade che i marciapiedi le case e i palazzi erano tutte i loro ma Eldorado prende il nome anche dal re che regnava e governava quella città questo re che governava Eldorado era uso che si faceva i bagni prima di intingersi di una pellicola d'oro tutte le mattine per poi scrostarsela la sera prima di andare a letto per questo motivo il re di Eldorado era visto come qualcosa di divino qualcosa di superiore anche se era semplicemente una persona nobile che amava spalmarsi una pellicola d'oro dopo essersi lavato Eldorado o Manua come volete chiamarlo voi è una città che si dovrebbe trovare in Brasile in una foresta pluviale alcuni dicono tra il Perù la Bolivia e il Brasile e il Dorado per alcuni si troverebbe in un mitico lago il prima un mitico lago della foresta pluviale altri invece dicono che si trova all'interno della foresta pluviale in mezzo a tanti alberi secolari però dovresti andare proprio a ficcarsi proprio in mezzo a tutta la natura più incontaminata al centro della foresta pluviale si dovrebbe trovare Manua la mitica Eldorado molte persone sono state alla ricerca di questa famosa città tutta d'oro con l'oro ovviamente si fa di tutto l'oro è simbolo di ricchezza l'oro è il metallo più il metallo dei ricchi l'oro viene chiamato anche lo sterco del diavolo da alcuni moralisti con l'oro si può comprare tutto anche le anime del paradiso l'oro è sempre stato il simbolo della ricchezza il simbolo dell'abbondanza pensate che anche Giorgio I no, Giacomo I è stato alla ricerca di Eldorado talmente era la ricerca di questa mitica città che il giorno 29 ottobre 1618 purtroppo è stato decapitato nel palazzo di Westminster all'Old Palace Ard purtroppo perché come sapete la gente è crudele anche Ptolomeo era convinto che esistesse una città tutta d'oro su un'isola tutta d'oro all'estremo oriente proprio nel punto preciso dove sorge il sole quindi a est Ptolomeo che in India proprio nel fiume Gange c'era questa città Crise la chiamava lui oltre a Ptolomeo anche un altro scrittore romano a Vieno parlò di una città d'oro che si trovava proprio all'estremo oriente sul punto preciso del sorgere del sole questo fatto del punto preciso del sorgere del sole mi fa pensare al fatto che ai tempi dell'antica Roma ai tempi dell'antica Gallia ai tempi dell'antico Egitto non si conosceva proprio questa l'America l'America è inteso come sia l'America del nord che l'America del sud non era proprio conosciuta a parte i vichinghi perché come ben sapete i vichinghi hanno scoperto molto prima di Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci l'America e andavano con le loro barche con le loro imbarcazioni in Canada per andare a caccia o per raccogliere legname di cui per i vichinghi il legname era qualcosa di sacro solo che i vichinghi non hanno mai scoperto il dorado però hanno scoperto altre cose tipo Atlantide che era l'America e tante cose via dicendo prendete tutto quello che vi ho appena detto a pari di teoria o fauna moderna la scoperta di città completamente d'oro è stato da sempre come simbolo dell'abbondanza in uno dei romanzi del Decamerone di Boccaccio si tratta di una città chiamata Ben Godi di cui deriva il nome Godi Bene Ben Godi secondo uno dei famosi romanzi di Boccaccio nel Decamerone era una città mitica di cui due amici di Calandrino lo hanno ingannato facendogli credere che pescando una pietra che rendesse l'uomo invisibile potessero portare Calandrino nella famosa Ben Godi la città dell'abbondanza dove tutto era fatto di cibo montagne di parmigiano grattugiato ruscelli fatti di vino case fatte di prosciutto eccetera eccetera Calandrino che era un povero ingenuo ci ha cascato prese una pietra gli fecero credere che era quella la pietra che rendesse invisibile fecero fin di non vederlo più lui tutto contendo passò per la città nessuno che lo vedeva nessuno che faceva casa a lui appena tornò a casa venne rimproverato dalla moglie lui picchiò la moglie perché lui pensò che la moglie hanno il potere terribile e crudele di di eliminare qualsiasi incantesimo lui voleva assolutamente trovare Ben Godi alla fine secondo lui era stato scoperto da quella tra virgolette strega di sua moglie dato che lui la picchiò la percorse perché pensava di poter trovare Ben Godi Ben Godi a differenza di El Dorado era fatta tutta di cibo e bevande mentre El Dorado era la famosa città sembra dell'abbondanza trovata in un mitico lago del Brasile di cui solo alcuni potevano arrivarci a volte vista come una città a volte vista come un'isola d'oro bene amici adesso con questo ho finito un abbraccio dal gran mítico dal gran mítico di un'isola di un'isola